Siviglia, 700.000 abitanti circa, una delle prime cose che dovete fare quando arrivate a Siviglia è visitare le tre opere più importanti di questa bellissima città dell'Andalusia, ossia l'Alcazar, Plaza de Toros, Plaza de España, ma io direi anche e soprattutto un quarto punto va aggiunto che è la cattedrale godica più importante dell'Occidente dove c'è all'interno la tomba di Cristoforo Colombo e la bellissima Giralda. Giralda 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 Giralda